allora chiedo scusa se ho cancellato il video ora lo rifaccio perché mi ero un po troppo lasciato andare era venuto fuori il carattere decisamente fumantino che ogni tanto mi piglia perché io sembro un po calmo buono tranquillo ma poi quando arriva quando sale la temperatura poi mi incazzo anch'io e non poco rinnovo rinnovo un abbraccio ai tifosi della fiorentina qui le bandiere ammainiamole quando scompare qualcuno e vivissime condoglianze un abbraccio per la scomparsa di giobarone forza ragazzi torniamo a scannarci sul calcio come sempre auguro alla viola di trovare una persona che lo sostituisca degnamente detto questo finalmente ci arriviamo finalmente capite capiamo che il problema della juventus è il problema della juventus va ben oltre il campo va ben oltre alle qui va ben oltre magari lo spiegandomi male è un paio d'anni che vi dico guardate che non è normale quello che sta succedendo attorno a quest'allenatore non è normale non è normale ma poi vengo e poi vengo a lui ragazzi spiate juve spiata juve perseguitata ma guardate qua il tifo calcistico c'entra poco o nulla c'entra poco o nulla primo ho fatto un esempio uno non fa quello che fa perché tifoso del napoli dell'inter sarebbe proprio uno stupido a mettere nei pentagli una carriera in magistratura e una carriera nella guardia di finanza e io i finanzieri ce li ho in famiglia so cosa vuol dire capito non è gente tra l'altro uno dei due finanzieri è anche interista e pensione non c'entra un cazzo non c'entra nulla al tifo calcistico sarebbero degli stupidi a fare quello che hanno fatto per ma a parte irrealistica sta cosa a fare quella che hanno fatto per semplice tifo calcistico non può mai di cui c'è qualcosa di molto più grosso di molto più grosso che forse sarebbe sapremo fra una decina d'anni qui è un metodo a mio avviso è un metodo collaudato da almeno 30 anni quando c'è una personalità che dà fastidio il politico il ministro il personaggio dello spettacolo la scuola calcistica la segano in questo modo fino agli anni 90 quando un personaggio dava fastidio gli sparavano ora alla morte fisica preferiscono la morte civile viene preferita la morte civile che è molto peggiore perché se ti ammazzano il sangue consacra poi diventi un eroe diventi diventi un martire diventi un eroe loro loro diventi popolare allora qual è la cosa più antipopolare è quello indagato condannato sputtanato quella non c'è niente di peggio pensateci che così ha funzionato così come la politica ragazzi il processo rubi come è venuto fuori in questo modo qua è venuto fuori ragazzi guardate che il primo avviso di garanzia berlusconi gli arriva lui lo apprende dal corriere della sera mica dal postino che ti porta la busta verde che significa atti giudiziali da firmare ma dove mi spiego guarda che funziona così da almeno 30 anni sta roba è e adesso lo stiamo sperimentando sulla juventus ho letto l'articolo del corriere ci sono abbonato ho fatto l'abbonamento tramite da zone ho letto l'articolo del corriere si parla di coincidenze andrea agnelli superlega a non solo superlega non solo superlega io mi aspetto almeno un altro paio di libri di moncalvo da questa storia qui no io non so cosa pensare ma mi aspetto un paio di libri di moncalvo su questa roba qua non lo so non lo so su allegri e su cristiano ronaldo dove pare sia stato scelto di spiare cristiano ronaldo per provare a far saltare la sua cessione qui una cosa parecchiana che la juve andava danneggiata in un modo o nell'altro la juve andava danneggiata i motivi li scopriremo solo vivendo li scopriremo solo vivendo ribadisco ancora una volta siamo noi siamo il paese che crede che ammettere la bomba che ancora crede che ammettere la bomba a bologna siano stati mambro e fioraranti punto noi siamo ancora quel paese lì con le carte della strage di bologna ancora segrete ancora con il segreto è ma qui chiudiamo non per difendere mambro e fioraranti che hanno fatto quello che hanno fatto già precedentemente i doni erano degli stinchi di santo però dai chiudiamola qui altrimenti scateniamo discussioni che vanno oltre comunque su agnelli su cristiano ronaldo su allegri su allegri su allegri cristiano ronaldo è andato via agnelli è venuta fuori la storia delle plus valenze l'unico che aveva rimasto immacolato è massimiliano allegri e indovinate un po cosa gli è successo quello che gli succede da due a due tre anni a questa parte continui rotture di coglioni sul gioco sul gioco sul gioco e tanti juventini babbei che ci vanno dietro perché gioca bene la juve certo che no ma ragazzi ad allegri non è nuovo a queste situazioni gli è successo anche gli ultimi due anni al milan prima di essere esonerato dal milan ma io e i social c'erano già allora ma io tutta questa roba tutto questo can can mediatico contro l'allegri io non me lo ricordo mica io non me lo ricordo mica quando era al milan io perché nessuno mi toglie dalla testa che allegri non viene non viene massacrato mediaticamente in quanto allenatore ma viene massacrato immediaticamente in quanto simbolo di una juve che ha vinto qui il gioco non c'entra la fara fidatevi di me io vi ho sempre detto guardate che l'anti allegrismo nasce da tutto fuorché da tifosi juventini nasce da me tra pensieri di questi coglioni che hanno pensato di fare un po quel che fa selvaggio a lucarelli ballando con le stelle ecco loro lo fanno sul calcio ok loro lo fanno sul calcio perché hanno trovato quel core business hanno capito che funziona qualcuno ci sta facendo una brillante carriera hanno capito che funziona che è utile a una determinata causa sputtanare la juventus in un modo o nell'altro guardate che se non era allegri era un altro l'avrebbero fatto con una l'hanno fatto con capello l'hanno fatto con trappattoni stesse critiche solo che non c'erano i social lo hanno fatto anche con lippi sapete quando dato che gli ha fatto ingoiare merda per anni lippi alla prima occasione buona gliel'hanno fatta pagare mediaticamente con la suoneria la calzoncina ricordate il mondiale in sud africa ricordate quella era tutta rabbia rabbia repressa perché gli ha fatto mangiare merda fino fino all'ultimo fino al 2006 e se c'è una cosa che nella vita ha sbagliato marcello lippi è tornare in nazionale non ci doveva più tornare perché si è andato a prendere la merda che le toccava ad altri il signor mi sto incazzando di nuovo il signor marcello lippi lì è stato il più grande errore della sua carriera non doveva tornare in nazionale non ci doveva tornare perché era stato marchiato a fuoco fin quando non ha alzato la coppa del mondo e non lì poi come fai a marchiare a fuoco uno che ti ha vinto ti ha alzato una coppa in faccia è vinto questo è ora ribadisco ancora una volta che qua il tifo calcistico c'entra meno che zero c'entra meno che zero qui sono altre le dinamiche e in questo la propria la società la proprietà ancora mute ancora mute ancora mute poi uno deve pensare male poi uno deve pensare male boccataci boccata preferisco stare zitto sulla proprietà magari mi smentiscono magari magari mi smentiscono però una roba avete mai visto un cane di giornalista che viva che deve fare queste domande qua gli chiedono il futuro di allegri questo questo e quest'altro avete mai visto andare a chiedere aggiuntoli su ste robe no non ci andranno mai non ci andranno mai perché sono tutti collusi o meglio non collusi con questa storia qui di perugia è tutto un sistema certo che il reato è sempre personale l'avranno commesso quei due alla fine pagheranno quei due addirittura il magistrato sia al basso della facoltà di non rispondere laudati rabbari la dda di baira laudati io non lo so e come fai a credere in uno stato con queste condizioni fermo restando che innocente fido a prova contraria è fino a sentenza definitiva il cristiano come fai a affidarti come fai a affidarti come fai a affidarti ecco questo è andato su seguendo una live intanto di tifosi giuventini certo che la cosa che a me fa rabbia che noi si assiste passivamente si scopre passivamente tutto questo è ma la cosa più inquietante sapete quale di tutto questo è guardare che dove ti vogliono colpire ti mettono sotto controllo in stile germania est avete mai visto il film le vite degli altri dell'ex de der uguale ma la cosa più inquietante non è la ricerca di un cavilo per colpevolizzarti ma la far finta di niente con gli altri ragazzi in questo paese si sono indirizzate campagne elettorali così si sono perse elezioni su queste robe qua si sono perse si sono creati testimoni farlocchi si sono creati chi lo sa chi lo sa fatto sta che mi compiaccio che avete aperto gli occhi finalmente io li ho aperti un po prima ma vabbè pazienza magari in altre cose sono meno sveglio non lo so una calciopoli light francamente non so cosa pensare non so cosa pensare certo è che a me l'accusano meraviglia affatto e non certo dal discorso juventus perché ci ho viste troppe analogie con altre storie troppe per non pensare male troppe ora i fatti mi stanno dando ragione e guardate che quanto sta venendo fuori non è che una punta dell'iceberg perché di distriano di guadagno come cacchio si chiama lui volete sapere come la penso io veramente che ce n'è almeno uno per procura ce n'è almeno uno per procura e forse mi tengo anche stretto ragazzi fughe di notizie sui processi alla politica fughe di notizie sui processi alla mafia fughe di notizie su calciopoli fughe di notizia adesso commissione fra organi inquirenti e giornalisti illegali ragazzi non lo so è certo che i grandi media stanno insabbiando ma ora c'è di mezzo la juve e forse hanno pestato una merda più grossa del normale 14 milioni di tifosi ora ci sono i social e le notizie girano un po più difficile mettere la polvere sotto sotto il tappeto come andrà a finire per me salteranno giusto tre quattro teste e ma il problema è resta quello se la società non si muove se la società non si muove anzi la proprietà non si muove concludo il video dicendo due cose la prima la prima per cortesia non voglio sentire la cazzata che questi hanno fatto questa quello che hanno fatto per tifo perché questo è un reato gravissimo e non lo fai certo per tifo calcistico ragazzi ma voi ce la vedete una banda dei tir napoletana per fare un esempio una banda dei tir napoletana assaltare una bisarca del piena di macchine della fiat giusto per anti juventinismo subia 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 qui stiamo parlando di reati altrettanto gravi se andiamo a vedere la pena le pene editali se andiamo a vedere detto questo dovevo dire un'altra cosa che ora mi sfugge non voglio e dovevo dire un'altra cosa detta la prima l'ho detta e la seconda la prima la seconda è che l'ho dimenticata la seconda cosa che sperando che mi viene nel frattempo faccio una considerazione prima di il video certo che pensare adesso le frasi di ferrero in assemblea delle azionisti le sentenze ben insegnato che si rispettano sarei proprio sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensa ora delle sentenze il signor ferrero ma soprattutto gradirei sapere cosa ne pensa il suo principale certo è che da tutta sta situazione nonché dalla vicenda allegri sulla quale ripeto lui il gioco credetemi è l'ultima cosa per la quale viene colpito è l'ultima quello il rossa ecco perché sbotta lui rossa lui lo sa io sono io sono convinto che guarda qui il campo c'entra poco o nulla io sono convinto che se allegri aprisse bocca ne sentiremo delle belle in questo sono convinto qui il campo c'entra poco o nulla allegri viene colpito in quanto allenatore della juventus perché allegri quando era al milan tant'è che fu esonerato nel 13 14 dal milan poi arrivò sedorf per la cronaca non è che fece meglio io quando allegri era al milan negli ultimi tempi di difficoltosi al milan io tutta sta panna mediatica non me la ricordo mica non me la ricordo però detto allegri viene colpito non per il gioco che è criticabile per l'amore del cielo ma in quanto alle nature della juventus non perdete di mai vista il fatto che tutta sta crociata sul gioco sul non si è aggiornato sui nazionali su montengaggi parte da tifosi opinionisti giornali non juventini e questa è la base di tutto poi lui è criticabilissimo per l'amor di dio ma qui c'è qualcosa che va molto oltre quel che si vede sul campo qui c'è qualcosa che va molto oltre e soprattutto da allegri e da come si comporterà sulla vicenda allegri e su quello che sta venendo fuori da perugia la proprietà e la società saranno costretti inevitabilmente a scoprire le carte a farci capire a che gioco stiamo giocando questo è questo è ero certo che prima o poi la verità iniziasse a venire a galla ne ero certo sono contento di essere ancora vivo affinché parte della verità venga fuori sono contento ragazzi quel che è certo che uno schifo quel che è certo che tutta sta vicenda spero serva lasciamo perdere anche il calcio serva a rendere questo paese finalmente più civile con una giustizia normale perché ragazzi fra il caso palamara la loggia ungheria e ste robe qua veramente la giustizia italiana ne esce a pezzi ne esce peggio della juventus di adesso la giustizia italiana perché oggi come oggi non ho paura a dire che forse la giustizia italiana ha toccato il suo punto più basso da quando esiste l'italia unita il suo punto più basso o meglio è venuto fuori è venuto fuori è venuto fuori la realtà è venuta fuori punto dove la juve non è il principale obiettivo è uno dei tanti obiettivi da colpire in questo modo modus operandi è uno dei tanti obiettivi da colpire dai fastidio una volta c'erano i calacini con le bombe le autobombe poi la gente si è incazzata e cerchiamo di colpire certe persone con qualcosa di più popolare e cosa c'era di più popolare di un avviso di garanzia soprattutto dopo il 92 e non cito il 92 a caso non lo cito il 92 a caso noi possiamo solo indignarci per quanto è successo purtroppo il pallino ce l'ha in mano la proprietà e francamente dubito faccia qualcosa io un pensiero me lo sono fatto io un pensiero me lo sono fatto ma questa volta lo tengo per me e forse ci arrivate da soli iscrivetevi al canale